Tu ma? Signore e signori benvenuti alla domenica dell'enduro Dietro di noi Mirko Bottari, Peppe Timi e lì in fondo Dario, l'uomo che non deve chiedere mai Guardate dove ci siamo imbattuti, pietre, sassi, massi, pietre e ancora di più Guardate, questo bidone di Mirko Bottari Invece, un'arrampicatrice Mirko cosa ne pensi di questa giornata? Ma che cos'è? Hai lavorato? Praticamente non fa nulla Dario sei su Enduro Day Cosa ti è successo? Descrivi quello che ti è successo C'era una serie di conigli Il padre inseguiva la madre e il figlio E alla fine siamo caduti Benissimo, la caccia era chiusa Complimenti Complimenti Perché non sapevo Certo, uno si spera che possa superare Io l'ho superato dopo io E quindi la cosa è pure dopo Vabbè, non c'è di prendere copia Alla prossima di domenica Alla prossima di domenica Alla prossima di domenica Alla prossima di domenica Ah Ah OK 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 Aspetta di ascendere questa bomba Grazie a tutti